La vendemmia diventa una festa al mercato di campagna amica. È accaduto a Pistoia dove i bambini, per un giorno piccoli contadini, hanno pigiato l'uva per trarne del succo. Si è trattata della seconda edizione di Quando i bambini pigiano l'uva, la festa organizzata da coldiretti e da compagni amica dedicata ai più piccoli, durante la quale sono stati proposti laboratori didattici dedicati al tipico frutto del settembre, con una merenda a base di schiacciata con l'uva. Un grande evento, tanta soddisfazione, i bambini hanno anche disegnato l'etichetta e si sono portati a casa il loro mosto con l'etichetta disegnata da loro a cui hanno dato anche un nome. Ad accompagnare i bambini nell'arte della vinificazione, Giuseppe Bartolomei del Podere del Tordo, azienda vitivinicola del Pistoiese. Che ha spiegato a questi bambini come si fa l'uva, qual è l'arte del tornio e come tutta quella tradizione contadina che fa un buon prodotto ma anche riempie di culture e di gioie bambini.